Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella dell'American Pitbull Terrier, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like, in questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. L'American Pitbull Terrier detto più comunemente Pitbull è grazie al suo aspetto e dalle dicerie sicuramente una delle razze più discusse dell'intero mondo canino. Purtroppo non goda di una buona fama a causa chi senza scrupoli li alleva ancora oggi per i combattimenti. Se vuoi saperne di più su questa razza sul nostro canale è già uscito un video chiamato Pitbull cosa sapere che ti invitiamo a recuperare. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1 Sono dei cani che amano molto i bambini. Il Pitbull è un cane protettivo e amorevole verso i bambini. Ha un carattere così affettuoso e giocherellone che lo rende un perfetto compagno di giochi. Numero 2 Sono cani molto affettuosi, molto dolci e molto attaccati ai loro padroni. Non lo sentirai spesso dire eppure è vero. Con la giusta disciplina e il giusto approccio può diventare un ottimo cane per tutta la famiglia ma anche e soprattutto come dicevamo in precedenza con i bambini. Numero 3 Il Pitbull è un cane estremamente intelligente e semplice da addestrare. È però fondamentale iniziare ad addestrarlo da subito con fermezza ma senza mai usare la violenza. L'addestramento richiede sempre un approccio positivo, libero dal preconcetto che un Pitbull sia un cane aggressivo. Nulla di più sbagliato. Prima di procedere con i contro facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita di questa razza. Ora procediamo subito con i contro di questa razza. Numero 1 Sono dei cani molto molto forti. I Pitbull sebbene allenati possono arrivare ad avere un peso davvero importante di pura muscolatura. Se non addestrato a dovere potrebbe diventare un serio problema gestire un cane di questa mole d'adulto per cui è importantissimo l'addestramento da cucciolo quando è sicuramente più tranquillo e gestibile. Numero 2 I Pitbull maschi sono esemplari pressoché dominanti. Soprattutto in assenza di una corretta socializzazione ed educazione questa razza specialmente nei maschi sfodera un carattere dominante verso i propri simili. La prudenza è d'obbligo e bisogna incoraggiare per quanto possibile le esperienze positive di incontro con altri cani durante la fase di crescita. Numero 3 Sono dei cani molto sportivi, non per niente hanno un fisico forte e potente. I Pitbull Terrier possiedono una valanga di energia, per stargli dietro dovrai essere anche tu un tipo molto allenato. Correre insieme e mantenere il suo passo deciderà un po' di allenamento, ma lo sforzo ripagherà. Tieni presente che l'attività fisica è molto importante se vivi in un appartamento con il tuo cane e un Pitbull frustrato e annoiato può sviluppare problemi comportamentali ed essere distruttivo. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e contro di questa razza. Pensi di riuscire ad occuparti del Pitbull Terrier? Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!